E' qualcosa che deve restare tra di noi, capito? Va bene, puoi stare tranquillo. E pensi che io possa aiutarti? Sicuramente. Ciao, Ayaz. Come va? Che cosa faremo? Faremo alcune cose che fanno i fratelli. Bene. Visto che vuoi sapere qualcosa di più sul mio conto, ho una sorpresa per te. Ecco. E vai! Hoppla! Hai visto? Pensa! Cerca di riflettere! Non... le pollastre. Che cosa? Beh, io le pollastre non le voglio. Non per te, le cerchiamo per me. Sì, una cena a quest'ora. Ma tu stai bene? Dov'è che si tiene questa cena? In un albergo qui a Kavacic, in un caffè. Va bene, ciao, a più tardi allora. Mio marito. Rimani. Bene, allora. Divertiti. Bel fratello, davvero. Ehi, fratello. Tutti occupi dei modelli. Arriveranno due persone, un uomo e una donna. Alloggeranno all'Esra. Dovrai accompagnarli in studio.